Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi per parlare insieme di fantacalcio, come avete visto dalla copertina, oggi focus analisi dettagliata di Reteghi, nuovo attaccante del Genua. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis, gratis come scaricare l'app di OneFootball della quale trovate il link qui sotto in descrizione, grazie a OneFootball possiamo restare sempre aggiornati su tutte le news di calcio mercato e non solo, dati, statistiche, schede giocatore, tutto quello che ci può essere utile per la nostra asta del fantacalcio, link qui sotto, grazie mille. Ma torniamo a noi, Reteghi, un nome di cui si sta parlando tanto, se avete partecipato alle live delle scorse settimane sapete benissimo che al momento il prezzo atteso di questo giocatore oscilla molto. Alcuni non lo pagherebbero neanche più del 5%, altri addirittura sarebbero disposti a pagarlo anche il 14-15%. Ma qual è il prezzo giusto se esiste un prezzo giusto al momento per Reteghi? Personalmente credo che il prezzo atteso più probabile nelle nostre aste fantacalcio, soprattutto a 10, possa essere dal 7 al 9% circa. Ovviamente è un giocatore che sta avendo molto hype, soprattutto qui a Genova, ma in generale è un nome che attira l'attenzione, un nome di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi, soprattutto per la convocazione in nazionale di Mancini. Si dice infatti che addirittura sia stato Mancini a consigliare, a raccomandare Reteghi al Genoa sia perché vuole che giochi tanto per la nazionale, sia perché effettivamente può prendere confidenza anche con il calcio italiano. Detto questo però ci andiamo subito a spostare su Fantalab, analizziamo Reteghi nel dettaglio e poi facciamo altre considerazioni per quanto riguarda il suo prezzo e le aste in cui si potrà comprare. Ed eccoci qui su Fantalab nella pagina statistiche di Reteghi, tra l'altro occhio che adesso abbiamo anche le statistiche di expected goal e expected assist importanti. Reteghi, italiano, 1,86 di altezza, 24 anni. Da litmap vediamo che ovviamente la sua zona di campo preferita è l'area di rigore, ma è un attaccante a cui piace svariare molto nel campo da gioco. 11 goal l'ultima stagione, un assist, 21 partite giocate, di cui 20 da titolare. Buone le percentuali di tiri da partita e di tiri in porta partita, occhio ai cartellini perché 5 gialli per un attaccante non sono pochi. Ma a questo punto andiamo ad analizzare anche un po' lo storico di questo giocatore per cercare di capire se questo trend di goal dura da tempo o se invece è stata solamente una cosa dell'ultima annata. Come potete vedere nella stagione precedente, quella del 2022, comunque 19 goal in 27 partite. La stagione ancora prima 4 goal in 24 partite. Possiamo dire che nelle ultime due stagioni finalmente il giocatore, non dico che sia esploso, ma sicuramente è maturato. Bisognerà capire ovviamente quanto peso hanno quei goal fatti in Argentina nel nostro campionato. Ma continuiamo la nostra analisi su questo giocatore e andiamo a vedere i ruoli in cui ha giocato, ma anche la sua cronistoria a livello di infortuni. Come potete vedere ragazzi ha praticamente sempre giocato da punta centrale. 124 partite in carriera in questo ruolo, 45 goal e 7 assist. E dopo aver ringraziato Transfer Market per avermi ricordato che devo acquistare, Pannolini e Agis, possiamo vedere gli infortuni di Reteghi. Stagione 22-23 infortunio al ginocchio, 14 giorni fuori, 4 partite perse. Stagione 21-22 un problema al fascio muscolare, anche qui 4 partite perse, fuori per una ventina di giorni circa. Infortuni non gravi al momento. Per quanto riguarda l'integrità fisica e aggiungo la titolarità, possiamo stare abbastanza tranquilli. Nel 3-5-1-1, 3-5-2 di Gilardino, infatti Reteghi dovrebbe essere la punta centrale di ruolo con alle sue spalle probabilmente Albert Gudmundsson e quindi quanto dobbiamo pagare questo giocatore? Io realisticamente ad oggi non mi andrai a spingere oltre l'8-9%. Se proprio siamo in una condizione critica all'asta, il tetto massimo a mio parere dovrebbe essere il 10%. Perché è vero che è un giocatore che potenzialmente potrebbe fare una doppia cifra, potenzialmente rigorista e sicuramente titolare. Ma è anche vero che al momento il Genoa è comunque una di quelle 4-5-6 squadre che dovranno, almeno sulla carta, lottare per salvarsi. Inoltre, il gioco di Gilardino non è propriamente noto per essere un gioco così offensivo. Il valore aggiunto che l'anno scorso Gilardino ha portato al Genoa è stato soprattutto nella metà campo difensiva e non in quella offensiva. Quindi Reteghi potrebbe essere un terzo slot ideale a patto di pagarlo il giusto. Ovviamente tutto ciò detto a fine luglio. Reteghi è uno di quei nomi che a seconda di come inizierà il campionato, il precampionato, le primamichevoli, la Coppa Italia, potrebbe vedere il proprio prezzo o salire drasticamente o scendere appunto nella direzione opposta. Non mi stupirei di vedere Reteghi in alcune aste pagato il 5-6% e in altre il 13-14-15%. Qui a Genova, vi dicevo, c'è tanto hype, però a livello nazionale sicuramente un nome molto attenzionato, ma ancora che lascia qualche perplessità. Fatemi sapere la vostra su Matteo Reteghi, qui sotto nei commenti voi quanto lo andreste a pagare in un fantacalcio a 10, a 8, a 12, ditemi la vostra. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao! Ciao!